Le sorprese non sono mancate, c'è chi lo ha fatto in positivo, chi invece ha deluso sino a questo momento le attese della vigilia. Prematuro in ogni caso emettere sentenze, dare giudizi definitivi, esprimere verdetti. Troppo presto, c'è tutto il tempo per rimediare a partenza e a rilento. L'occasione la offre, ad esempio, già la terza giornata del campionato di eccellenza. L'occasione la offre il calendario ad US, Bitonto e Barletta di fronte al Città degli Ulivi, è una classica delle ultime tre stagioni. È una sfida che mette in palio punti già importanti. I neroverdi di Gino Zinfolino, reduci dall'impresa di giovedì in Coppa Italia di Lettanti con il Vieste, andranno a caccia anche della prima vittoria in campionato. I biancorossi di Franco Cinque invece proveranno al terzo tentativo a cancellare lo zero in graduatoria. Chi vince rialza prontamente la testa, chi perde si mette già nei guai. Uno degli incroci più interessanti del terzo turno intanto si giocherà sul sintetico del Sampio di Bari tra Vigor Trani e Domnia Bitonto. Ha fatto il pieno di punti nelle prime due giornate la formazione di Massimo Pizzulli, costretta, a quanto pare solo per questa volta, ad emigrare momentaneamente per l'indisponibilità del comunale, i cui lavori però termineranno a breve. Non vogliono fermarsi i biancazzurri che all'eccellente impatto in campionato ci hanno aggiunto pure il passaggio in Coppa. Competizione invece già abbandonata dall'Omnia che per il potenziale che ha non può accontentarsi dei due pareggi d'inizio stagione deve necessariamente provare a dare una spallata alla propria avventura agonistica. Missione riscatto anche per il corato di scena sulla difficile terra battuta del Totò Cezzi di Novoli. Idem l'Unione Calcio Biceglie alla ricerca dei primi punti nell'abbinamento esterno con il Galatina che si giocherà sul neutro del Capozza di Casarano. Il match più importante per somma di punti si giocherà in Salento tra il Gallipoli, una delle due capolista a punteggio pieno, e il sorprendente Molfetta Calcio di Pino Giusto. Completano il quadro della domenica le seguenti sfide Vieste-Casarano-Fasano-Radeo ed Otranto-Avetrana. Fischio d'inizio su tutti i campi, previsto alle ore 15 e 30.